La polizia sembra brancolare nel buio. Sono Han e i dragoni porpurei. Han, quella specie di buffone ipervitaminizzato. Ho un vecchio conto in sospeso con lui e voglio assolutamente saldarlo. Io dico che dobbiamo distruggere i dragoni una volta per tutte. Io sono con Casey. Scoviamo quel criminale e diamogli una... Per tutte. Io sono con Casey. Scoviamo quel criminale... Scoviamo quel criminale... Scoviamo quel criminale... ...e diamogli una lezione. Now be crushed!